Ecco lo stile domani ragazzi, eccoci quanti carichi e pimpanti, arzilli nel canale, un altro insieme, un buon pomeriggio a tutti voi in questo lunedì di inizio settimana e ovviamente partiamo subito con le notizie di oggi, con un focus anche su qualche profilo d'attacco come per esempio quello di Greenwood che ufficialmente sta uscendo dai radar bianconeri e come avete visto anche voi tramite le notizie di oggi si sta facendo avanti la formazione di Baroni con un lottito che vuole provare un blitz importante per l'attaccante in forza lo United in presto al Getafe che ha fatto come avete visto una bella stagione. La richiesta dei Red Devils è di almeno 30 milioni di sterline mentre quella della Lazio bianco celeste è di 20 milioni di euro con una postilla inserita eventualmente in un contratto con la rivendita al 50% rifiutata immediatamente dallo United che non vuole sentire ragioni. Quindi diciamo che la Lazio in questo momento si è inserita a capofitto in questa trattativa. Ripeto, non mi dispiace perdere diciamo questo attaccante anche in virtù di quello che si è detto a livello di extracampo perché come ho detto secondo me ci sono altri profili sondati da Teogomotra e Giuntoli che possono fare al caso nostro. Quindi anche questa è una notizia abbastanza clamorosa se si pensa perché per il classe 2001 la Juve era veramente avanti con appunto l'idea di andare su lui poi siccome si è fatta avanti anche la concorrenza lo United ha alzato il prezzo fino a 50 milioni ed è per quello che la Juve si è un po' spaventata anche perché non avrebbe senso privarsi di chiesa e poi aggiungere anche soldi per lo United ecco perché non sarebbe mai potuto funzionare nemmeno questa tipologia di scambio poi Rabiot altro rebus per lui perché nonostante il francese non abbia ancora accettato il rinnovo e a me questo avrebbe dato molto fastidio al posto di Giuntoli e della proprietà Giuntoli sta continuando a proporre nuove alternative per il rinnovo e quindi cosa ha fatto? Ha alzato la posta per la commissione per la mamma quindi 7 milioni e mezzo netti per due anni più l'ipotesi del rinnovo per il terzo anno fino ad arrivare a 8 milioni circa che in totale sono 10 milioni lordi quindi è un bellissimo stipendio proposti 10 milioni 10 milioni ovviamente lordi però 2 milioni di commissione alla mamma la mamma è vero Nick che sono veramente tanti a salire poi non sono proprio due milioni netti vanno anche oltre quindi ripeto se rigettano un'offerta del genere è meglio che vadano quindi l'ex PSG deve far sapere la sua decisione alla Juventus che sta solo aspettando ma nel frattempo gli ha fatto capire che sì è prioritaro nel progetto Tiago Motta in ogni caso come ho detto anche privandoci di Rabiot a me non dispiace per niente un centrocampo con Fagioli, Douglas Lewis e Turam con ovviamente i dovuti rincalzi, i dovuti innesti e i comprimari ecco l'altra notizia importantissima da dare in virtù proprio del trasferimento di Douglas Lewis in bianco nero il Link Junior che farà le visite mediche insieme a Barrenecea all'Aston Villa il primo sarà il Link Junior però con le visite mediche fissate ovviamente per martedì se tutto va bene domani ma potrebbe slittare fino alla fine di questa settimana adesso vedremo ci sarà una firma che arriverà molto presto in un contratto quinquennale fino al 2029 con i Villans quindi Emery molto contento di questo colpo e appunto gli esami medici sono già preparati con un Barrenecea pure che si aggregerà alla squadra inglese e dentro questa settimana quindi questa fine settimana anche lui firmerà questo contratto con l'Aston Villa secondo me loro hanno comunque preso due giocatori ottimali per tenere la sticella comunque a un certo livello anche per la prossima Champions League e per la prossima Premier ecco ovviamente l'abbiamo già ribadito anche in mattinata Douglas Lewis farà le visite mediche domani negli States durante la Coppa America per poi aggregarsi direttamente al gruppo squadra a ridosso del 10 luglio quindi sicuramente verrà acclamato con una grande folla lui e la compagna, la Morosa quindi so che ci sono già delle trasferte organizzate per andare a Torino ad accogliere la braccia aperte scherzi a parte però ecco questo è un po' il succo del discorso che riguarda la trattativa, la maxi operazione conclusa da Giuntoli e Company per un grande giocatore per il nuovo centrocampo della Juventus alzato e non poco il tasso tecnico qualitativo e sostanziale nella nostra mediana che era orfana come ho detto e aveva bisogno di questo ossigeno puro per nuovi campioni e nuovi leader in mediana poi su lei altro neo di cui volevo discutere perché se ne è parlato pochissimo nelle ultime settimane anche io ho preferito evitare perché di attacco si parlava poco proprio perché il focus era nella mediana nella zona nevralgica del campo però Tiago Motto è stato molto chiaro ha detto che non si vorrebbe assolutamente privare dell'argentino perché comunque lo vede molto bene nel progetto tecnico sia per il 433 sia per il 4231 sia per il 4141 quindi ecco in questo momento soltanto con un'offerta cash veramente importante da 40 milioni allora Giuntoli potrebbe considerare la partenza ma c'è un'altra cosa importante da dire che non era così a livello di gerarchie prima cioè che Giuntoli non può più promettere al numero 7 bianconero Federico Chiesa di avere la priorità su sulle cioè ovvero sulle può rimanere mentre Chiesa non ha più la certezza di non essere sacrificabile quindi Giuntoli piuttosto che perdere sulle sacrificherebbe Chiesa e questo prima non era così ricordiamoci che la priorità era il rinnovo di Chiesa e basta guardare la borgia di nastro prima della fine della stagione corrente quindi insomma ragazzi questa è una news molto importante da ricordare e quindi Tiago Motta vede molto bene gli schemi da collaudare sulle ma meno Chiesa perché sulle è un giocatore che gioca a testa alta ha più sbusto, più fantasia, più estero è uno di quei giocatori che può spaccarti la partita in due anche usando la tecnica individuale anche se magari ha meno fiato mentre Chiesa è uno che se non ha le gambe pronte e non è veramente superiore fisicamente all'avversario fa fatica a saltarlo sulle è anche di tecnica riesce a fraseggiare con i compagni a fare il dribbling veloce nello stretto partendo da fermo ecco forse la differenza sostanziale tra i due ma ecco vedremo poi cosa verrà deciso perché noi chiaramente non possiamo sapere quello che si dicono dietro le quinte i dirigenti per concludere il video e farlo bello carnoso adesso di contenuti analizziamo anche la situazione di McKennie che nello specifico sta facendo parlare molto di sé perché intanto ha detto no al trasferimento all'Aston Villa ha prolungato l'agonia dei tifosi perché si pensava che potesse slittare molto più avanti l'acquisto di Douglas Lewis per fortuna non è stato così grazie a Healing e Barencea però le richieste dell'ingaggio di McKennie sono esose e quindi l'Aston Villa ha detto no così come altri club si sono defilati dalla possibilità di prenderlo anche il stesso Spurs, Tottenham e il Napoli di Conte hanno storto un po' il naso delle richieste di McKennie che chiede penso 5-6 milioni un salario assurdo quindi anche qui bisognerà vedere cosa fare in ogni caso si è aperto questo scenario ovviamente ancora tutto da vagliare e da vedere dello Schalke 04 su Alex Squadra c'è questa ipotesi di poterlo mettere fuori rosa appunto portandolo in Germania e poi dal 30 giugno 2025 in poi quindi 1 luglio fondamentalmente fargli un contratto con lo stipendio circa che chiede anche questa è un'ipotesi da non escludere ecco però bisognerà vedere anche questo bando da matazza Matti Aguotto è stato chiaro faccia a faccia gli ha detto da uomo a uomo non fai più parte del progetto così come presto dirà forse a Ken, Milik e Kostic priorità di Esuberi in uscita quindi come ho detto 4-2-3-1 con la possibilità di vedere titolari Douglas Luiz, Fagioli e Turano ditemi la vostra nei commenti forza io fino alla fine